L'innovazione digitale e la trasformazione digitale oggi in Italia abbiano un grande humus, cioè sia pronta l'Italia per fare un grande salto. A livello immobiliare, a livello finanziario, noi dobbiamo cercare di acquisire e sviluppare competenze su tecnologie scaricabili a terra, come si suol dire, cioè molto concrete, molto pratiche e che in queste situazioni, in questo settore di mercato ad alto valore aggiunto, permetterlo agli agenti immobiliari di raccontare al cliente finale una storia di emozioni, ma soprattutto una storia di efficienza e anche perché no, di risparmio di costi nell'acquisto di uno dei beni più importanti della nostra vita, quello appunto che è la casa. La sfida del futuro è integrare la rete fisica alla rete digitale. La domanda che è stata fatta oggi più volte è ma noi agenti immobiliari spareremo? Dovremmo cercare un altro lavoro? Allora, il 97% degli agenti immobiliari dai 45 ai 55 anni è convinta che un passaggio dalla rete fisica alla rete digitale sia una mana dal cielo. In questo percorso sarà molto importante che ogni agente riesca a battere quanta più moneta, chiamata reputazione, ha in tasca per riuscire appunto a passare la qualità, la competenza e la bellezza di un lavoro molto appassionante al cliente finale. In questa tecnologia ti aiuta perché ti toglie la parte rutinaria delle attività che quotidianamente gli agenti svolgono, che sono anche diciamo noiose. E dall'altro ti apre dei scenari interessantissimi per quanto riguarda ad esempio la predizione di vendite e quindi l'incremento del valore dei fatturati, per dirlo in modo brutale, degli agenti immobiliari, ma dall'altra parte anche il valore concreto e tangibile che il cliente finale vuole sempre di più. Una nota è questa, la tecnologia oggi già aiuta gli utenti finali a cercare casa più o meno come la vogliono nel 90% delle loro aspettative con la realtà aumentata. Parigi da un annetto, nel suo stato testimoneio, di fianco a Torre Eiffel c'è un chiosco all'interno del quale tu vai, vedi in realtà aumentata una serie di opportunità, ti piacciono, un memo in pop-up su smartphone ti dice ok se hai anche 10 minuti c'è l'agente immobiliare qui a 5 minuti che ti aspetta, magari la gente riempie un buco d'agenda, ha un'opportunità Francia, su Italia in questo caso e loca o vende un appartamento in modo assolutamente digitale. Questo è il classico esempio di rete ibrida, il futuro certamente ma non bisogna avere paura, bisogna cogliere le opportunità perché il più alto grado secondo me di sofisticazione in questo caso è proprio la semplicità. Solo un po' di parte ma dico che il marketing, anche qui Martek, è la base assoluta. Parlare di tecnologia oggi è una cosa davvero seria, soprattutto quando la tecnologia non si trasforma solo in bellissimi convegni, bellissime relazioni, bellissimi magari emendamenti governativi, ma si trasforma in progresso, in economia dello sviluppo e della crescita che permette alle persone a, in questo caso di acquistare la casa dei propri sogni, dall'altra parte invece di rendere un servizio sempre migliore. Gli strumenti di marketing oggi sono incredibilmente utili per chi vende e incredibilmente utili per chi compra. Quindi il suggerimento è investire davvero da un lato sulla conoscenza, dall'altro sulle opportunità perché credere a chi vi racconta il futuro, sì può funzionare, il futuro però al massimo si disegnerà 12 mesi. La conoscenza cambia tutto, la vera innovazione sta dentro di noi, nelle nostre scelte, nelle scelte che da un lato e dall'altro si possono accogliere grazie a questa rivoluzione digitale. Grazie. Grazie. Grazie.